Mi ritengo un componente della squadra di Reggio per raggiungere questi obiettivi. Credo che ognuno debba fare bene la propria parte. Io non posso che rappresentare tutto l'impegno da parte della nostra società su questo target, che è quello di far risorgere, visto che siamo in un periodo pasquale, dalle ceneri questo scalo. Quindi noi ce la metteremo tutta, ma il rapporto con il Comune è sempre stato molto collaborativo. Diciamo che l'approccio di un viaggiatore, di un passeggero è importante, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto viabilistico. Quindi come si raggiunge l'aeroporto. La cosa purtroppo sulla quale stiamo perdendo troppo tempo è questo svincolo che dalla superstrada dovrebbe collegare direttamente l'aeroporto. E quindi la richiesta è quella di, quantomeno, di preservare da parte delle forze di polizia la viabilità che si sta usando in questo momento per arrivare in aeroporto, che in certe ore del giorno rappresenta veramente qualcosa di anacronistico, diciamo così. Eddie Wilson non ha trovato un albergo adeguato a Reggio, ha dovuto allontanarsi da Reggio. Quindi, diciamo così, sull'aspetto ricettivo era molto preoccupato. L'aspetto che l'ha colpito di più è stato l'entusiasmo e la determinazione del Presidente della Regione nel voler supportare quelli che sono gli investimenti della compagnia ed è qualcosa che lui ha sottolineato come un rapporto unico nel panorama italiano. Non ha mai trovato nessun Presidente della Regione così fortemente ed emotivamente coinvolto.